Accoglierà i visitatori già all'esterno del salone con il villaggio Puglia, allestito sul piazzale antistante Il Lingotto, mentre all'interno dello stand del Padiglione 3 sarà possibile soffermarsi a leggere, a curiosare tra le librerie degli autori editori pugliesi ed acquistare e vivere le diverse esperienze audiovisive in un'atmosfera ricca di emozioni. 37 gli editori pugliesi, un 10% in più rispetto allo scorso anno. Oltre 80 gli incontri in programma nello spazio dello stand, 5 gli appuntamenti inseriti nel programma del salone, tra cui quello trainante sui testi di Aldo Moro, di cui quest'anno ricorre il centenario della nascita in Puglia. E per l'occasione all'interno dello stand gli editori pugliesi metteranno a disposizione pubblicazioni di essu Aldo Moro in una libreria dedicata dove saranno disponibili per la consultazione anche copie originali dell'epoca, messa a disposizione dall'Università degli Studi di Bari. Quella del salone del libro è l'occasione giusta per rilanciare il binomio cultura-turismo e questo non solo grazie alla presentazione di numerose pubblicazioni sul tema, ma soprattutto grazie al fuorisalone organizzato da Puglia Promozione. Qui il racconto della Puglia, che nello stand del padiglione 3, è quello degli scrittori ed editori, con lo sguardo di chi abita il territorio e lo ha attraversato, che diventa un'esperienza reale di immagini, suoni, food e attività pensate dalla Puglia per incontrare il pubblico del salone.